Ed è big match per la quarta giornata di campionato. Si va in campo di domenica qui a Tavagnaco e andiamo a leggere le formazioni. Il Tavagnaco con l'allenatrice Di Filippo schiera Blancuzzi, Bissoli, Frizza, Tuttino, Pochero, Martinelli, Brumana, Mantuani, Zuliani, Parisic e Camporese. Milena Bertolini invece schiera un 11 titolare quasi obbligato viste le tante assenze. Marchitelli tra i pali, Nasuti, Dadda, Zizioli, Carlson, Rosucci, Cernoia, Alborghetti, Tarenzi, Girelli e Costi. Rimette la palla per Alborghetti che spizza lungo, riesce Tarenzi ad agganciare, Tarenzi cerca Girelli, buon pallone, Girelli ora entra in area il destro, fuori di pochissimo. Costi ora prova per Nasuti, Rosucci buono di prima per Tarenzi, Tarenzi ora trova Girelli di tacco prezioso ancora per Rosucci, trova sulla sinistra Rosucci che tenta il tiro. Ora è calcio di punizione a favore del Brescia, Cernoia lancio improvviso per Girelli a tu per tu col portiere ed è gol! E c'è il gol di Cristiana, Girelli! Grandissima partenza, anzi ripartenza, improvvisa la battuta di Cernoia e troviamo finalmente il gol che ci porta in vantaggio. Tarenzi riesce ad allungare per Rosucci, Rosucci trova Girelli, Girelli riesce ad andare via Frizza, Girelli di destra ed è gol! Gol! Gol di Cristiana, Girelli! La doppietta di Cristiana! Parisi, Parisi allunga per Brumana, prova a sinistro e palla che rimane in gioco! Palo di... Girelli in possesso di palla, prova in profondità per Rosucci, interviene Martinelli, rimpallo favorisce Tarenzi che allarga per Cernoia, tu per tu col portiere! e interviene... c'ha anche ragione... Girelli, Girelli, interviene sul pallone, mette in mezzo, attenzione Tarenzi! Incredibile, va Tarenzi ancora! Che lancia la corrente camporese, camporese affronta nuovamente Zizioli, prova ad allargarsi, prova al destro e attenzione altro palo! A Tarenzi, ora è Rosucci Rosucci per Cernoia Cernoia lungo per Rosucci che mette il buon pallone in mezzo, arriva Tarenzi di prima battuta, la seconda va bene! E la seconda funziona! C'è il 3-0, gol sulla ribattuta di Blancuzzi di Tarenzi che trova finalmente il 3-0 per le Leonesse Brumano a calcio in area di rigore riesce di testa e vola! Vola Machitelli! Battuta lunga e in questo momento arriva il fischio finale di gara tre punti importantissimi per il Brescia calcio femminile che spugna quel di Tavagnacco 3-0 e ora si attende la quinta giornata di campionato giornata a c'è il 3-0 a la l'ho Grazie a tutti